Vedi, quando un bambino è handicappato, fisicamente o anche mentalmente, il bambino non sta soffrendo. I genitori stanno soffrendo. Non è così? Un bambino è incapace, ma non sofferente. Hai notato questo? Anche un bambino con un handicap mentale non soffre. In realtà è più libero della sofferenza di molti altri bambini. I genitori soffrono perché il loro figlio non è come il figlio di qualcun altro. È il genitore che sta soffrendo. Perché il genitore conosce le conseguenze per questo bambino di vivere nella società. Non ha determinate capacità. Cosa gli accadrà domani? Con queste preoccupazioni il genitore sta soffrendo. Non è così? Il bambino non sta soffrendo. Il bambino è incapace. Handicappato significa semplicemente questo. Handicappato, lo dice la parola stessa. Quindi, un handicap è giunto. Perché? Un certo difetto di fabbrica. È di questo che stai parlando, non è così? Tutto questo potrebbe sembrarti molto brutale, come sto parlando. È molto brutale. Ma non l'ho creata io, questa brutalità. La vita è così, non è così? Sì, il tuo creatore è brutale. Io sto solo spiegando la sua brutalità. Porto solo chiarezza sulla sua brutalità. Non ho creato io questa brutalità, non è così? Sì o no? Qualcuno è nato con mezzo cervello. Non l'ho creato io. Ma se dici questa è l'opera del creatore, questa è la brutalità del creatore, o la vedi così com'è e vedi cosa possiamo farci, oppure non la vedi. Oggi non li chiamiamo più bambini handicappati. Li chiamiamo bambini speciali. Sono speciali perché non sono come gli altri bambini, sono diversi. È un buon modo di vederlo. Sono bambini speciali. È solo che, siccome stai paragonando il bambino a qualche altro bambino, stai pensando che sia handicappato. Altrimenti è un bambino speciale. Supponi, sai, stai stampando banconote. Tutte le banconote da 100 rupie dovrebbero essere in un modo, a parte il numero. Ma una banconota da 100 rupie è impazzita così. Sai che un collezionista pagherebbe un milione di rupie per comprare quella banconota da 100 rupie? È una banconota speciale, una strana. Non ci puoi comprare niente. Ma comunque è una banconota speciale. È proprio così. Un bambino, qualcosa è andato non nel modo in cui dovrebbe andare normalmente, è andato in un altro modo. Non devi trasformare ogni cosa in una sofferenza. Ecco cosa sto dicendo. Le persone che hanno dei figli normali, che hanno tutti gli arti e tutto opposto, non stanno forse soffrendo? Siccome il bambino non ascolta ciò che pensi che dovrebbe fare, tu soffrirai, non è così? Quindi la tua sofferenza non ha nulla a che fare con l'handicap. Nulla a che fare con il benessere. La tua sofferenza è solo che, se qualunque cosa accade che tu pensi non debba accadere, tu soffrirai. O in altre parole, vuoi che l'intera esistenza accada nel modo in cui tu pensi che dovrebbe essere. Ma non sarà mai così. In che forma giunge a te non importa. Giunge a te sotto forma di bambino handicappato? Giunge a te sotto forma di un affare fallimentare? Giunge a te sotto forma di morte, malattia? Da che parte giunge non importa. Ma la tua esigenza è semplicemente questa. L'esistenza dovrebbe accadere secondo la tua volontà. Non accadrà in questo modo. Se l'intera esistenza va secondo la tua volontà. No, supponi che vada secondo la tua volontà. Sì. L'intera esistenza va secondo la tua volontà, sì, ma... Dove dovrei andare io? Dovrebbe accadere anche secondo la mia volontà, non è così? Quindi alcune cose accadono a modo tu, alcune cose accadono a modo mio.